Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Marco Travaglio, parlavamo di strumentalizzazioni politiche, il silenzio dovrebbe essere d'oro in queste situazioni, naturalmente con le immagini che sono circolate da ieri era impossibile non trattare in modo aperto questo caso, fermo restando che il silenzio sulle grandi questioni importanti non bisogna rispettarlo. Il silenzio di chi sta al governo per rispettare il governo, mica il nostro, ci mancherebbe, noi abbiamo il dovere, ma ci mancherebbe altro. Ed è questo quello che volevo sottolineare, insieme al fatto che chi sta al governo con Giorgio Meloni non è stato in silenzio manco oggi, nel senso che la Lega, col numero due di Salvini, Cripa, ha detto spiace il trattamento riservato a Ilaria Salis, ma ogni paese punisce come vuole e quindi non bisogna interferire dire niente su questo. E poi è stata data anche un video sui social della Ceccardi che è una eurodeputata della Lega ed è stato questo, guardate. Ecco, allora, siccome il padre della Ilaria Salis, Roberto, ha detto che crescono le azioni per screditare la figlia, che girano foto e immagini dove lei non c'entra assolutamente niente, per esempio queste che abbiamo appena visto e che vengono fatte girare dall'eurodeputata lighista Ceccardi e che ha scritto anche quando indignano più le manette che un ragazzo pestato, questo è quello che fa il gruppo della Salis a Budapesta, assieme ai suoi amici antifascisti in assetto armato. Vuole commentare, senatrice? Ma guardi, intanto al di là del fatto che come faceva notare in quelle immagini io non vedo Ilaria Salis e poi, diciamo, io non capisco questo bisogno di strumentalizzare e comunque di trovare sempre nella vittima delle responsabilità e la sottoscritta ne sa qualcosa, diciamo, di questo modo superandi. Nella serie se l'è andata a cercare? Se l'è andata a cercare e per di più arriva da una leghista, ora è evidente, a me quantomeno sembra evidente che è iniziata la guerra in casa loro, forse in previsioni delle europee, ma però ricordiamoci che non si fa politica, non si fa propaganda elettorale sulla pelle della gente. E poi, io vorrei dire anche una cosa. Lei parlava del fatto che, non so per quale strana ragione, lei è così convinto che Ilaria Salis non possa venire a scontare i domiciliari in Italia. Io le dico che invece è possibile, ma le dico anche un'altra cosa. Mi piacerebbe che in Germania, per esempio, è possibile. Io sono favorevole, però avverto che... Un imputato, anzi attualmente condannato tedesco per la stessa vicenda, che sta scontando la sua pena nel suo paese. C'è un piccolo dettaglio, è condannato. Allora, però... Il dito non lo possiamo plasmare come vogliamo. È condannato, guardi, Travaglio probabilmente è d'accordo con me che sarebbe fatto accensionare. Allora, Marco Travaglio, se vuole gliela regalo, se la legge... No, per fortuna non c'è ancora una pena da scontare. Esattamente, cioè è un tema enorme. Se noi non entriamo nella logica del dito... Marco Travaglio, aspetta un attimo Mario, se non voglio capire cosa significa questa.